Lo avevano sorpreso in una clinica di Lisbona. Francesco Pelle, pezzo da 90 dell'andrangheta di San Luca, era ricoverato perché contagiato dal coronavirus. Era il marzo scorso e i carabinieri di Reggio Calabria ponevano fine a una latitanza durata circa due anni. Un'operazione internazionale contro uno dei ricercati più pericolosi, coordinata dal procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, e dall'Aggiunto Giuseppe Lombardo. A distanza di sei mesi Ciccio Pakistan, come Pelle viene chiamato, torna in Italia. L'aereo che lo ha riportato nel nostro paese è atterrato nel pomeriggio a Ciampino, a scortarlo, personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale della Polizia. Francesco Pelle è considerato uno dei protagonisti della sanguinosa faida di San Luca. Era sparito nel nulla il 19 luglio del 2019, poco prima che la Cassazione respingesse il suo ricorso e diventasse definitiva la sua condanna all'ergastolo. E lui, infatti, per i giudici, il mandante della strage di Natale in cui nel dicembre 2006 fu uccisa Maria Strangio, moglie di Giovanni Luca Nirta. Una vendetta per l'attentato subito dallo stesso Francesco Pelle il 31 luglio dello stesso anno, quando fu sparato con un fucile mentre si trovava sul balcone di casa e finì su una sedia a rotelle. Otto mesi più tardi la strage di Natale sfociò nella carneficina di Duisburg. Sei persone, ritenute vicine alla cosca Pelle Vottari, ammazzate la notte di ferragosto davanti a un ristorante della città tedesca.